Il BMW Group festeggia il centesimo anniversario del suo stabilimento di Monaco di Baviera, conosciuto come il quattro cilindri. L'azienda produce i suoi prodotti come Bayerische Motorenwerke nel sito del distretto di Milbertshofen dal 1922. Tutto è iniziato con motori per aerei e motocicletta. Poi, a partire dal 1952, lo stabilimento ha iniziato a produrre automobili che ancora oggi sono famose in tutto il mondo, tra cui l'iconica BMW i7, le leggende delle corse come la M3 e dal 1975 il modello di maggior successo di tutta la gamma BMW, la BMW Serie 3. Nell'anno del suo centesimo anniversario, lo stabilimento di Monaco sta dimostrando in modo impressionante il ruolo di primo piano che svolge nell'era della mobilità elettrica. La BMW i4, completamente elettrica, ad esempio, rappresenta già un quarto del volume di produzione ed è in aumento. In collaborazione con il Centro di Ricerca e Innovazione del BMW Group, lo stabilimento di Monaco è sempre stato un centro di eccellenza interno, in grado di diffondere le conoscenze sui processi e sulle tecnologie, nonché l'esperienza acquisita in cento anni di produzione di motori e veicoli ad altri stabilimenti in tutto il mondo. Esempi di questa capacità innovativa sono la produzione della prima serie della Mini E, completamente elettrica, l'iconica Z8 e l'edizione speciale elettrica della BMW 1602 per le Olimpiadi estive del 1972, per non parlare del Project E, culminato nella rivoluzionaria BMW i3, anch'essa nata nello stabilimento di Monaco di Baviera. Il forte posizionamento dello stabilimento di Monaco come modello della rete di produzione del BMW Group, ora e in futuro, è dimostrata dalla sua trasformazione in una iFactory, il piano strategico concepito dal reparto produzione del BMW Group, che enfatizza i concetti di Lean, Green e Digital. Anche la struttura dello stabilimento di Monaco è in fase di trasformazione. Il sito dell'ex officina di verniciatura sta per essere convertito in un nuovo impianto di costruzione della carrozzeria e, a partire dal 2024, l'azienda costruirà un impianto completamente nuovo per produrre la noie classe, completamente elettrica, sul sito dell'attuale impianto di produzione dei motori. Il sindaco di Monaco di Baviera, Dieter Reiter, ha sottolineato il fatto che lo stabilimento ha continuato a evolversi in parallelo con l'area urbana residenziale che lo circonda ed è rimasto un valido datore di lavoro ed ha anche parlato dei risultati del concorso di architettura BMW Munich Urban Production, recentemente concluso che l'azienda ha lanciato nell'autunno del 2021 in collaborazione con la capitale Monaco di Baviera. L'obiettivo era quello di sfruttare la posizione unica dello stabilimento nel centro della città. Ciò comporterà la necessità di rendere l'intero complesso visibilmente più accessibile e aperto ai suoi vicini. I due studi vincitori, OMA di Rotterdam e 3XN di Copenhagen, hanno deciso di sviluppare congiuntamente i loro progetti e li hanno presentati a una giuria di alto livello. La loro visione sul futuro della produzione nello stabilimento del BMW Group di Monaco sarà ora utilizzata per sviluppare un nuovo piano generale. Con questo piano generale, oltre alle ottimizzazioni strutturali già in corso, lo stabilimento di Monaco si concentrerà sui principi BMW iFactory Lean, Green and Digital. Insieme, questi principi assicurano che questo sito speciale, lo stabilimento originario del BMW Group, abbia alla massima flessibilità, processi eccellenti e straordinarie capacità di integrazione nei prossimi decenni.